Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Science, ben trovati per questa nuova diretta di Spazio Aperto, con Antonella Entranò e Ugo Lombardi. Salutiamo il nostro regista Ugo per questa sera, ciao Ugo, grazie per la tua assistenza tecnica. Ciao Ugo. Buonasera. Salutiamo Rosario Moreno, collegato con noi sempre da Treviso, ciao Rosario. Buonasera a tutti quanti e a tutto il condominio di Radio Science. Diamo il nostro saluto anche a Massimo Gonella, responsabile di pianetaogtv.net. Ciao Massimo. Ciao Massimo. E buon pomeriggio a voi tutti da Venezia. E diamo il benvenuto naturalmente al nostro ospite, il dottor Belfiore Alessandro, portavoce del comitato No Guerra Non Auto di Ancona. Buonasera a tutti, a tutti gli ascoltatori e a voi tutti della redazione. Grazie per aver accettato il nostro invito, a brevissimo cominceremo con lei la nostra trasmissione. Per intanto diamo la linea a Rosario Moreno per i saluti al condominio e per le informazioni ai nostri ascoltori e subito dopo a Massimo Gonella per le ultime news. Prego Rosario. Bene, grazie Antonella. Buonasera a tutti quanti di nuovo qui dalla regia di Radio Science. Questa sera in regia c'è Ugo. Voglio solo ricordare a tutti gli amici che chi volesse contattare e entrare in diretta, in trasmissione con noi per fare domande all'ospite oppure se hanno dei dubbi o dire qualche cosa, possono farlo attraverso la nostra chat che è su radiosaiuz.it oppure possono telefonarci al numero 0422 16 26 622 oppure mandarci un sms o un messaggio con whatsapp al numero 393 78 80 195. Ricordo comunque che questa diretta va sulle due web tv di Radio Science in più sul canale youtube e sul canale live stream come web tv. Per quanto riguarda le web radio viene ritrasmessa messa in tutto il network e quindi Radio Reno web da Casalecchio di Reno, Radio Favaro Veneto da Favaro Veneto, Radio Sismondi Libri da Salgareda in provincia di Treviso, Radio Isso da Modena e Radio Val di Chiana dalla Val di Chiana. Con questo è tutto Antonella ti passo la linea. Che rigiro subito a Massimo Bonella per gli ultimi aggiornamenti. Prego Massimo. Sì grazie, un saluto subito da regia centrale a Ugo e Rosario alle 18 e 34 prendiamo la linea qui da Radio Favaro Veneto, testata giornalistica a Pianeta Oggi TV. Dunque abbiamo una notizia che ha davvero dell'incredibile. Censis, ben 11 milioni di italiani hanno dovuto rinunciare a prestazioni sanitarie nel 2016 a causa di difficoltà economiche, non riuscendo a pagarle di tasca propria. Sono 2 milioni in più rispetto al 2012. E quanto emerge da una ricerca del Censis in cui si specifica che 2,4 milioni di anziani hanno rinunciato a curarsi. Ebbene cari signori, qui siamo di fronte ad una cosa che ha davvero dell'incredibile, ma dell'incredibile dell'incredibile. Le automobili che vanno in ufficina sono trattate meglio, decisamente meglio. E ve lo dimostro. Me la porti qui alle ore 14, alle ore 17 la macchina è già pronta, nuova come prima. Andiamo avanti. Stefano Cucchi è stato vittima di tortura come Giulio Regeni. Così il procuratore generale Rubolino nella sua requisitoria al processo d'appello bis per la morte di Cucchi. Cucchi è stato pestato, ucciso quando era in mano dello Stato, ucciso da servitori dello Stato in camice bianco. Occorre restituire dignità a Stefano e all'intero paese. Bisogna evitare che muoia una terza volta, ha aggiunto Rubolino. Chiesti 5 anni e mezzo per il primario dell'ospedale Pertini e Fierro e 3 anni e mezzo per gli altri 4. Ed ora diamo uno sguardo rapidamente perché non voglio portarvi via troppo tempo. Dunque uno sguardo alla nostra testata online. Andiamo dunque nella home page. Abbiamo due importanti video tratti da Pandora TV di Roma, diretto da Giulietto Chiesa. Come sapete noi abbiamo una collaborazione diretta con questa emittente. Abbiamo uno speciale uno speciale, sarebbe un po' una botta e risposta. Dunque durante l'azionamento... Un momento, scusami Massimo, Massimo un momento perché Marco per piacere abbassa tutto. Quello succede? Vai Massimo, c'è stato un disturbo con l'entrata in diretta di Marco Grilli. Vai avanti, scusami. Nessun problema, alle 18.37 scattate in questo istante. Riprendiamo dunque la home page di pinetaoggtv.net, testata giornalistica di Venezia, questa all news. Abbiamo due video molto importanti i tratti della Pandora TV, emittente romana, diretta da Giulietto Chiesa. Dunque, durante la presentazione... Il primo riguarda la presentazione del libro La Congiuria Lituana, la fine dell'Unione Sovietica e di chi tentò di salvarla. Dunque di Sapovikova, uno spettatore espone i propri dubbi su contenuti del libro. La risposta di Giulietto Chiesa non si fa attendere. Riprese e montaggio a cura di Nicola Alberi. Ecco, questo è un video veramente da guardare, da veramente molto interessante. Poi a seguire ce n'è un altro, abbiamo le news di Pandora TV. Poi ci sono i nostri settimanali, rispettivamente un'intervista al noto ricercatore, reportagista e documentarista Pier Giorgio Caria, intervista curata dalla dottoressa Maria Marciullo, presidente dell'associazione Terra Mater di Bruniera, siamo in provincia di Pordenone. Poi ancora gli altri settimanali, abbiamo una prima e una seconda parte, intervista al dottore Giovanni Giaulino, esperto nella tecnologia della comunicazione audio-disciplinare. si parlerà il rapporto che c'è tra il tema e le armi. Poi a seguire altri comunicati stampa di varie associazioni, eccetera, eccetera, eccetera. Le 18.38 restituisco la linea subito allo studio di Bari per la conduzione di spazio aperto a Poi. Grazie a Massimo Bonella, in attesa di riuscire ad avere anche un collegamento ottimale con Marto Grilli, richiamo il benvenuto al nostro ospite, Alessandro Belfiore, il portavoce del Comitato No Guerra, No Nato di Ancona. Buonasera ancora, dottor Belfiore. Il vostro Comitato è nato quando? Quali sono gli scopi che si prefigge? Il Comitato è nato da poco tempo, diciamo così nel mese di aprile, parso aprile. Abbiamo fatto la prima iniziativa importante il 2 maggio scorso con Giulietto Chiesa in un incontro nella sala del Consiglio Comunale di Ancona dal titolo e poi tanti perché per dire basta guerre e no alla Nato. Hanno partecipato un centinaio di cittadini, di persone con un dibattito molto interessante. Diciamo che per dire cose coerenti contro la guerra e per la pace non possiamo esimerci dal dare una valutazione, un giudizio su quello che è la Nato oggi. Noi siamo contro la Nato e per l'uscita dell'Italia dalla Nato, anzi saremo per un suo scioglimento perché a distanza di tanto tempo la Nato oggi non avrebbe più ragione di esistere in quanto nel mondo non esiste un blocco contrapposto militare che possa metterla in pericolo. Quindi la Nato non solo è uno strumento di guerra pericoloso che mina la sovranità di vari paesi ma in questi ultimi tempi si sta allargando in molti paesi dell'est della penisola scandinava e praticamente si è portata ai confini della Russia con l'intenzione di installare dei sistemi d'arma molto avanzati, pericolosi dal punto di vista degli equilibri e che la Russia teme moltissimo come il cosiddetto scudo antimissile. Questo sistema che viene fatto passare per un sistema difensivo in realtà è un sistema polivalente in quanto è in grado anche di lanciare missili di attacco non solo di difesa missilistica ma anche sistemi d'arma di primo colpo ed è quindi chiaro che costituisce una minaccia. Inoltre avrebbe come obiettivo quello di depotenziare la risposta di ritorsione e questo aumenta i pericoli di guerra. Quindi noi abbiamo praticamente, tornano in Europa, tutta una serie di tensioni e di una nuova corsa a riarmo molto pericolosa dagli esiti che possono essere anche repentini. Non voglio dire questo, perché molti magari sentono che la guerra sono cose che avvengono lontano in altri paesi, in realtà è molto più vicino di quello che noi pensiamo perché basta pensare che nel nostro paese la Nato ha oltre 113 basi militari, in diverse di queste basi ci sono armamenti nucleari, bombe nucleari che sono state recentemente ammodernate e che possono lanciare sia da aerei statunitensi ma anche aerei italiani. Penso alla base di Aviano, a quella di Camp Ederly, di Vicenza, di Ghedi, di Sigonella nel sud. Quindi ci sono tutti gli elementi per una grave preoccupazione e questa limita la sovranità nel nostro paese, così come la limita anche uscendo dal piano militare accordi come quello del TPP, perché questi accordi che in sostanza rendono più dipendenti i paesi, non c'è niente del libero mercato, cioè in realtà i cittadini in qualche modo perdono una parte della democrazia, della sovranità e della libertà. Inoltre pericoli di guerra reali, ora noi li scongiuriamo, cercheremo di fare di tutto, per questo che io personalmente anche mi sono messo in campo, dopo tanti anni di inattività mi sono sentito spinto anche a riprendere un impegno, perché altrimenti qual è il futuro che lasciamo ai nostri figli? Bisogna reagire, bisogna fare qualcosa, non possiamo stare nell'attesa del peggio, questo è chiaro, ma sei sono i punti cardine alla base della Costituzione del vostro comitato, li vuole enunciare per favore? Sì, i punti cardine sono questi, che noi siamo per un'Italia sovrana e neutrale, questo è un punto, noi non vogliamo nessuna base militare straniera, non solo della Nata americana, ma nessun'altra base militare. La neutralità è un elemento importante, perché in un momento in cui invece si tirano le fila per includere nuovi paesi, cercando di alimentare vecchi rancori, è quello di individuare un nemico, che questo è il clima di guerra, per farlo occorre individuare un nemico, questo nemico è la Russia e poi in subordine c'è anche la Cina, ma dicendo anche cose gravi, che la Russia è praticamente aggressiva e che minaccia di invadere altri paesi, queste cose non hanno il minimo riscontro, non esiste, la Russia dichiara proprio, che non si sogna neanche lontanamente di attaccare ed è pronta a risolvere le questioni pacificamente sul piano politico, ovviamente ci sono questioni come quelle dell'Ucraina, della questione della Crimea, questa minaccia incombente viene alimentata e indotta, io credo che molti popoli, non so perché è sproporzionata anche sul piano oggettivo, non c'è nessun riscontro, però in alcuni ambienti funziona e poi teniamo conto che una serie di paesi attraverso finanziamenti, anche la corruzione di politici parlamentari, c'è un'azione di destabilizzazione per cercare di convincere, di agire e per portare altre paesi ad aderire alla Nato e quindi minacciare oggettivamente la Russia e i suoi confini, anche storicamente la Russia ha sempre dovuto rincorrere cercando di recuperare, anche fin dalla fondazione, per esempio la Nato è nata nel 1949, il patto di Varsavia è nato 5 anni dopo ed è nato perché la Germania dell'Ovest aveva aderito alla Nato una settimana prima, i missili a Cuba nel 1962 sono stato il tentativo di rispondere a una minaccia degli Stati Uniti di invadere l'isola nel 1961 e anche perché in Europa venivano installate per la prima volta armi nucleari. Quindi questa rincorsa, questo lancio per poi mettere in difficoltà un paese, perché la corsa a riarmo è chiaro che toglie risorse alla società civile, al benessere, agli interventi, gli Stati Uniti, molti telespettatori non lo sanno, spendono il 50% di tutto quello che spende l'intero pianeta per gli armamenti, quindi risorse enormi e chiedono a noi europei di spendere ancora di più, di armarsi, ma dove vogliamo andare a finire? Veramente è una cosa micidiale, quando secondo me invece bisogna avere coscienza, responsabilità e risolvere le questioni con la volontà reciproca però, è chiaro che se un paese si sente minacciato in maniera vitale da vicino, perché se no allora è come se la Russia decidesse di portare armi nucleari in Venezuela o a Cuba di nuovo, siamo impazziti, ci vuole anche il buon senso e la ragione su questo, speriamo che prevalgano ovviamente. Dottor Pelfiore, sono Ugo Lombardi, con l'altro Santonella in questa trasmissione, ma la domanda che le vorrei fare è questa, che le faccio è questa, la nessione della Crimea da parte della Russia può essere stato un atto distensivo secondo lei? Allora, innanzitutto in Ucraina ci sono stati dei fatti che hanno preceduto questo, ci sono state delle manifestazioni contro il governo che veniva ritenuto filo russo, quando in realtà quel governo di Yanukovic, se non sbaglio, aveva buoni rapporti anche con il resto d'Europa, quindi tutta questa, però lì c'è stato un intervento pesante per cercare di stabilizzare quel governo, ora il governo poteva essere anche molto apprezzato dal popolo, però ci sono le vie democratiche, non c'è stata una resistenza, un'opposizione di principio a non svolgere le elezioni, lì le manifestazioni di massa, che sono state quelle, per carità, poi hanno preso in sopravvento gruppi paramilitari di estrema destra, tra l'altro come tutti sanno, che hanno fatto un colpo di mano, perché abbiamo visto tutte le immagini dalla TV che è la polizia che era in difficoltà, indietreggiava e quindi anche con morti, c'è la polizia anche con testimonianza, chi è che sparava, non era bene, quindi diciamo una cosa molto oscura e sicuramente incoraggiata e fomentata, ora è chiaro che non tutto il paese era in sintonia con questo ovviamente percorso, i paesi dell'est, del sud-est dell'Ucraina, che hanno una forte presenza dell'etemia russofona, hanno fatto resistenza, non hanno accettato questo capovolgimento, hanno fatto resistenza e le truppe armate, i battaglioni Azov, l'hanno mandato lì il governo di Kiev a bombardare queste città, quindi la questione della Crimea è ancora più evidente, perché in Crimea c'è stato un referendum che a stragrande maggioranza ha votato, chiaramente la Crimea si è sentita, poi la Crimea storicamente, parliamoci chiaro, è stata sempre legata alla madre patria russia, perché praticamente è stata regalata da Khrushchev all'Ucraina, quando l'Ucraina faceva parte ancora dell'Unione Sovietica, quindi diciamo che un colpo di mano, un colpo di militare di chiara illegalità è stato presentato come un atto di liberazione, di liberatorio, un referendum pacifico dove il popolo ha votato in quel modo invece non vale, qui le leggi internazionali le fa chi vuole imporre il proprio ordine delle cose e comunque sia, quello su della Crimea credo che sia un problema ormai che non c'è stato risultato, ma sul resto, sulla questione dei paesi del Donbass, di Lugansk eccetera, la Russia discute, vuole aperta anche, la Costituzione non la vogliono cambiare, la Costituzione non cambia, quelli ancora continuano a bombardarli, questi cosa devono fare? Ovviamente questo è certo un punto critico, però se non c'è la volontà reciproca, voglio dire per fare altri agganci storici, la questione del Cuba che avevo accennato, a un certo punto gli Stati Uniti minacciarono una guerra, hanno fatto un blocco navale, una cosa fortissima, non volevano assolutamente, perché c'è un'analogia inversa, e la Russia ha accettato, per evitare l'aumento dell'attenzione e i rischi, di ritirare questi missili, ora lì c'è una cosa simile, perché questi qui in Romania, in Polonia, stanno dispiegando a base in ogni dove, in ogni dove, quindi… Dottore, scusi se la interrompo, io credo che, non conosco la sua età, ma credo che le immagini televisive di qualche vicino ci riportano l'invasione di Stati Uniti, fatte dalla Russia, mi ricordo l'invasione fatta in Cecoslovacchia, i carri armati che hanno invaso i paesi… Sì, certo, certo. Intanto erano altri tempi veramente, comunque c'erano i blocchi, fu costruito nel 1948 il muro di Berlino, da lì poi nacque la Nato, quindi la guerra fredda, per carità, ci sono stati frangenti storici e quindi errori. Certo, è possibile, ma intanto presente tra polacchi e russi non si sa mai tanto più di prendere, però la Russia, a parte questi episodi gravi, diciamo, errori dell'intervento in Cecoslovacchia e in Ungheria, no? C'erano veramente blocchi contrapposti, quasi di una rigidità e comunque ci furono e fu, ripeto, drammatico, però voglio dire che la Russia è stata anche nella storia invasa al più delle volte, ha subito gli attacchi, a parte l'invasione della Germania, anche la Germania quando metteva le sue divisioni corazzate, i confini della Russia dicevano che erano esercitazioni militari, addirittura, non lo sapevo, l'ho letto recentemente perché io non sono uno storico, che la Finlandia attaccò la Russia, eccetera, no? E quindi, insomma, si è dovuta difendere dall'attacco dell'impero tomano, quindi storicamente, insomma, tutta questa aggressività della Russia, a parte quel frangente dei blocchi contrapposti, degli interventi, ma gli americani non hanno fatto altro che fare guerra, gli americani dopo che si è sciolto il patto di Varsavia, che c'erano gli accordi sui misi, sembrava che, hanno cominciato a teorizzare lo scudo spaziale, lo scudo stellare, armamenti, chi più ne ha più ne mette, ha fatto guerra in mezzo mondo, voglio dire, ci vuole anche un senso delle proporzioni, noi pensiamo che sia più democratico, un mondo unipolare dove un solo paese detta le regole sostanzialmente del diritto internazionale, nel senso che decide quello che è giusto, che è legittimo, che non lo è e che condiziona, diciamo, interi continenti, interi paesi, anche attraverso un metodo di discutere, per esempio il Brasile, vogliamo prendere la questione del Sud America? In Sud America tutti i paesi che non accettano il diktak degli Stati Uniti oggi sono sotto una pressione e una minaccia, Venezuela attene un intervento militare, non conta, non conta solo… quindi insomma, io dico che, ripeto, l'obiettivo nostro è di avere un paese e anche un'Europa, non solo l'Italia, che il discorso l'ha allargato, la domanda è la Nato aumenta e ci porta nella direzione di un conflitto, oppure è una forza di difesa che può invece evitare la guerra. Ecco, tutte le azioni, quello che ho detto, mi sembra che non favoriscano certo un processo di distensione. Diciamo che se esercita un'azione di difesa è chiaro che non può fare anche mediazione l'una e l'antitesi dell'altro, questo mi sembra abbastanza evidente, ma come noi dicevamo durante la scorsa trasmissione, il nostro obiettivo non è essere pro o contro qualcuno, il nostro obiettivo è capire soprattutto come mai il nostro paese ha perso quasi del tutto la propria sovranità, non ha più potere decisionale comunque sia, avendo più di 113 basi Nato, è chiaro che a un certo momento non può chiamarsi fuori dai giochi. Quindi la domanda che le pongo è questa, qualora l'Italia dovesse uscire dalla Nato, facciamo questo sogno, lasciamoci andare a questo sogno, qualora l'Italia dovesse uscire dalla Nato, quali sarebbero le conseguenze? Ascolti, innanzitutto gli italiani, le persone devono chiedersi una cosa, se queste basi hanno sostanzialmente, l'Italia su queste basi ha veramente poca voce in capitolo, perché in caso di crisi che ci può portare al conflitto, una crisi alla quale purtroppo speriamo di non arrivarci mai, i comandi, c'eranno gli Stati Uniti direttamente, non è che viene coinvolto il Parlamento, i sistemi di controllo, non c'è neanche il tempo, quindi noi siamo di fatto paesi che accettano ostaggio di chi decide che l'Italia deve entrare in guerra contro qualcuno. Posso dire una cosa, adesso purtroppo pochi giorni fa è morto Mohamed Ali, il grande campione del pugilato americano e lui disse, ma io perché devo andare a fare la guerra di Atteconder? Io ho quelli che mi danno del negro qui in America, a me di Atteconder non hanno fatto niente, io non trovo motivo per la mia coscienza religiosa o etica, lì è stato molto fermo e coraggioso anche per i tempi, gli italiani hanno motivi diretti per mettersi in guerra con la Nato e per bombardare in maniera distruttiva un paese come la Russia, ma stiamo scherzando, io credo che veramente, però non lo decidiamo noi, noi abbiamo 70-80 ordini nucleari su cui le chiavi ce ne hanno in mano loro, formalmente ce le dovrebbe avere pure l'Italia, ma tecnicamente non potrà essere mai così, tecnicamente non esiste, non so il Presidente del Consiglio perché non esiste proprio, in più non solo, ma queste basi vengono portate a poche centinaia di chilometri se non decine ai confini della Russia, cioè una scelta scelerata, provocatoria, adesso ci sono grandi manovre militari nel Mar Baltico, ma il Mar Baltico è un mare delicato perché lì è un mare più stretto, dove c'è la Russia, c'è Pietroburgo, c'è i grandi dispiegamenti, è chiaro che sono segnali di provocazione, ora qualcuno mi potrebbe dire a meno risulta che la Russia faccia altrettanto, la Russia è chiaro che non può non mettere delle contromisure, lo deve fare perché se si rompe un certo equilibrio è più facile della guerra, ora ognuno di noi deve fare la parte nostra, noi stiamo dalla parte della Nato, dobbiamo incoraggiare questa tendenza, gli vogliamo dire ok armiamo, compriamo gli F-35, andiamo avanti così, io penso che noi abbiamo una crisi che dura da 10 anni, parliamoci chiaro, come dobbiamo uscire da questa crisi? Salvando questo pianeta, questo mondo oppure dandogli il colpo di grazia o con una guerra, noi dobbiamo metterci alla nostra coscienza, la coscienza di chi ha una fede religiosa, la coscienza di chi ha etica, morale, andiamo verso il disastro e la guerra può essere una soluzione solo per qualcuno, è il disastro per la totalità, ma per qualcuno che magari pensa che siamo in troppi su questo pianeta, forse pensa che bisogna dare un'ascoltita, perché qui le risorse naturali forse scarseggiano, però veramente è una mentalità criminale, diciamolo chiaramente o no, questo è il dato. Ora io sono stato uno Obama, quando Obama si è presentato, se fosse stato in America l'avrei votato al primo mandato sicuro, anche al secondo, ma al secondo già mi erano venuti più dubbi, poi questo finale diciamo così e poi soprattutto con questa ipotesi della Clinton o di Trump, non so, andiamo al peggio, negli Stati Uniti c'è un establishment militare potente legato all'industria, degli armamenti, insomma loro vogliono avere, dichiarano, non è che loro devono essere la prima potenza al mondo sul piano economico e militare e non accettano proprio mentalmente l'idea che altri paesi, verosimilmente parliamo della Russia e della Cina, possano avere un ruolo di importante, non dico di parità, ma comunque sia hanno interessi in determinate sfere. Ora ovviamente a me non mi sta bene neanche se la Cina fa una politica ben intesa e quindi qualche riserva ce l'ho, però fondamentalmente gli americani hanno le basi di tutto il mondo, non so quante ce ne hanno, migliaia, il Giappone è una portaerea americana, pieno di basi militari americane, interi e filippine, loro stanno dappertutto, questo è il punto, e gli altri dovrebbero tacere se qualcuno gli piazza i missili a 100 km di distanza, insomma mi pare proprio una cosa che non sta nell'ordine delle cose. Dottor Belfiore, ma lì è convinto che queste superpotenze, anche quelle in un'ocità, in un'ocità di diventarlo, sappiano che se dovesse mandare qualcuno un missile non vince nessuno? Ma certo, ma infatti, io sono convinto che loro, ora io non ho elementi così, però prendiamo il comportamento della Russia con l'intervento in Siria, la Russia è stata molto trasparente, ha dichiarato, prima bisogna combattere la Russia, collaboriamo, eccetera, ma chiesto che altro sull'ambiguità totale è stato chi aveva come unico obiettivo quello di rovesciare il governo Assad, che fra l'altro fra tutti i paesi dell'area geografica è il peggiore, non credo proprio, perché era un governo laico, dove varie religioni tutto sommato convivevano, c'aveva un livello di cultura che è meglio e migliore degli altri, certo non c'era la sciaria e le teste che volavano solo perché oppure le donne, quindi parliamo di un'altra cosa, eppure quello era un nemico. Mentre invece altri che sostenevano la parola, che non hanno combattuto per anni di fatto Daesh, Isis, eccetera, addirittura come la Turchia e secondo me anche un po' gli Stati Uniti hanno lì, ma poi lì ci sono i ribelli moderati che però combattono fianco a fianco con gli altri, insomma quindi estrema ambiguità, cioè secondo me prevalgono disegni geostrategici delle grandi potenze, il rischio del fondamentalismo islamico è stato sottovalutato e viene usato per i propri fini, insomma è una situazione brutta, ecco questo che voglio dire. Tornando all'invasione dell'Ungheria, dottore mi scusi, o della cecoslovecchia, forse lì si ricorderà che l'Italia assemblò nei pressi del confine est, quindi a Trieste e dintorni, una marea di carri armati e quindi di tutele militari, perché si correva il rischio di essere invasi, perché la Jugoslavia era lì per essere invasa anche. Lei pensa che anche quell'episodio rischio dovrebbe essere sottovalutato? Ma l'episodio riferisce all'intervento sovietico in ciocoslovacchia? Io ricordo che c'è stata una semplice… Allora su quello io ho detto, e secondo me quell'intervento era limitato a mantenere diciamo quel paese dentro l'orbita del patto di Varsavia, ripeto dove hanno avuto il sopravvento i timori di un inizio di disgregazione che poi è avvenuto successivamente, Gorbaccio ha fatto delle grandi aperture, poi comunque voglio dire alla fine tutto, lì è stato cruento ma tutto negli anni dall'89 al 91, anche la crisi di tutto il sistema è avvenuta relativamente pacificamente, perché alla fine non è che i carri armati russi o della Germania, dell'Est o di altri paesi hanno sparato contro il popolo, perché mentre noi abbiamo assistito nella storia colpi di Stato cruenti di una crueltà immane, vorremmo parlare del Cile, dell'Argentina, comunque sia, c'è stato un ripiegamento e una sconfitta, la guerra fredda dell'Unione Sovietica e la Persa e con Elsin, l'Unione Sovietica è stata 10 anni praticamente con un sistema di forze armate ridotto a brandelli, quasi inefficiente, inesistente, con Putin la Russia si è ricostruita, ma non con l'intento per mantenere una deterrenza e anche e soprattutto per garantire una politica anche autonoma dei propri interessi, che dire i propri interessi non significa essere aggressivi, anche ogni paese ha i propri interessi, il punto è come tu li fai valere, perché se li devi far valere, siccome i propri interessi degli Stati Uniti sono in ogni dove, c'è un paese, c'è un luogo del mondo dal polo nord al polo sud, dove gli Stati Uniti non dicono noi qui siamo una potenza, interveniamo, per loro non c'è limite, invece anche la Cina, io adesso non difendo perché lì c'è la questione dell'Iso e questa cosa qui, ma la Cina è una potenza economica e sta diventando comunque una forza anche sul piano militare, ma in termini di confronto, queste forze in termini di spesa eccetera, non si sognano neanche, non lo faranno, ma perché voglio dire anche la Cina semmai può avere un ruolo più diciamo geografico in quell'ambito lì, ma pensiamo che la Cina voglia fare guerra al Giappone, non so, capito? C'è un paese un po' anomalo, c'è un paese un po' particolare che crea qualche problema ma che non è un vero rischio, quello della Corea del Nord, però insomma, ecco io voglio dire che tutte queste cose sono paesi che fanno parte del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, ma insomma se c'è fosse qualche segnale di chi ha più buonsenso e lo mette in campo di evitare l'escalation, perché questa corsa è poi, non lo sappiamo noi dove ci può portare, ecco questo è il dato, e poi ripeto, faccio un discorso etico, questo mondo ha bisogno di essere salvato, cioè dalla crisi economica e dal punto di vista ambientale, si scatenasse una competizione per fare del bene al pianeta, per inquirarlo di meno, ridurre le emissioni, no, allora io mi piacerebbe che quelle grandi potenze facessero una gara per questo, non è una gara per armarsi e per mettere, ecco, su questo, io penso che è una cosa ragionevole, è una cosa che ci deve trovare uniti il 99% del popolo e quindi noi lo diciamo, diciamo sovranità perché rivediamo dei rischi nelle politiche attuali della Nato, ecco, e quindi poniamo questo problema, non mettiamo all'ordine del giorno, perché sennò di quale pace parliamo? Dottor Bessera, quali sono le prossime iniziative in calendario del contato? Allora sì, adesso noi vorremmo fare, se ci riusciamo, stiamo contattando anche Fuglio Scaglione che era l'ex giornalista di Famiglia Cristiana e comunque ha scritto anche recentemente un libro per il primo di luglio, quindi diciamo prima un po' del caldo torrido che non so se arriverà, ma adesso ne abbiamo visto solo qualche spiraglio, vorremmo fare ancora un'iniziativa e poi naturalmente dipenderà un po' da come evolvano le cose, perché se avvengono fatti gravi non c'è sabato, domenica o mare che tenga, io spero ne no, che i cittadini possano passare una serena estate, però bisogna comunque parlare di queste cose, discuterne, prendere le iniziative, al di là degli schieramenti, cioè io so che su queste posizioni, non magari con delle differenze, ci sono anche forze politiche dall'estrazione delle tendenze anche molto diverse, però io dico la pace prima di tutto, gli interessi nostri, del nostro paese e dell'Europa è un equilibrio che allontani i pericoli della guerra e non che gli aumenti, poi economicamente noi abbiamo bisogno di avere rapporti, positività, rapporti economici, dobbiamo rilanciare l'economia, pensiamo meno alla guerra e più al benessere dei popoli. Rilanciare però un'economia che dovrebbe assolutamente essere rivista, perché… Rivista, molto rivista, sono d'accordissimo, sono d'accordissimo perché la povertà, ci sono due elementi, uno è la guerra che porta alla disperazione, alla distruzione e alla povertà, oltre che le spese per gli armamenti che tolgono risorse, ma l'altra sono i cambiamenti climatici, noi pensiamo solo che in questo periodo in India, un paese di un miliardo di persone, c'è stata una siccità pesantissima, una siccità e temperature di 50 gradi, ora è chiaro che se i terreni si inaridiscono, le riserve d'acqua diminuiscono, la gente che fa cercherà di andare in posti dove le condizioni di vita sono migliori e quindi il fenomeno dell'immigrazione è indotto sia dalle guerre e anche da queste cose, anche da queste cose che veramente… quindi dobbiamo aiutare, dobbiamo prenderci la responsabilità globale per questo… occorre una politica ad alto livello, di responsabilità, questo paese molto alla politica nostra rimane troppo raso terra spesso, è questo il punto. Grazie a voi che mi avete dato questa opportunità, ho fatto una chiacchierata, sono molto contento, ci risentiremo in qualche caso. Ci risentiremo senz'altro, certo, grazie. Ok, buonasera e un saluto a tutti e anche a tutti gli ascoltatori. Grazie, buonasera. Rosario, penso che si possa provare a collegarci con Marco se le situazioni tecniche ce lo consentono, visto che lui è in movimento con un tablet in macchina, insomma non si trova certo nelle condizioni ideali. Sì, lo sto chiamando sul telefono. Ecco, vediamo se così riusciamo ad avere un collegamento migliore. Marco? No, aspetta, sta arrivando, non c'è ancora in questo momento. Volevo dire, ecco qua, sta arrivando, mi è stato detto che l'Isis, l'ultima minaccia, vogliono buttare giù le piramidi. Ah, ecco, ci manca solo... me ne facciano vedere prima. Certo. Le avvite almeno. Almeno questo. Ci devono arrivare prima. Eh sì. Marco, ci sei? Sono con voi, buonasera a tutti. Buonasera. Ciao Marco. Ciao Marco. Ciao. Eh, sappiamo che questa sera per te il collegamento è un po' difficoltoso, soprattutto perché hai una durissima, anzi due durissime giornate di lavoro sulle spalle. No, ma non è tanto quello quanto che, pur con tutta la tecnologia a disposizione, non ho perso la connessione, il senso di internet, un solo minuto da quando sono partito in auto, ma evidentemente il tempo non aiuta perché, mi dispiace, insorbite tutti i rumori di fondo della pioggia, della climatizzazione che c'è la possibilità a far funzionare per evitare a parlamento dei vetri. Vabbè, comunque ci riusciamo lo stesso. Dunque Marco, come avrai sentito, abbiamo ospitato il portavoce del comitato No Guerra Nonato di Ancona che il 2 maggio ha ospitato Giulietto Chiesa per un incontro pubblico. Tante sono state le questioni sollevate durante quell'incontro, durante quella conferenza e tanti anche i punti delicati. Ma ecco, vorrei chiedere a te quello che ho chiesto al dottor Belfiore Pocanzi. Cosa significherebbe per l'Italia uscire dalla Nato? Voglio dire Marco, perdonami, non sarebbe propriamente una passeggiata di salute, cioè non si deve immaginare che si esce dal trattato e ognuno continua a condurre la sua vita perché non sarebbe proprio così. Non credo di potermi far prendere, come dire, dalla funeria e pensare che sia effettivamente una cosa così semplice. Prima di tutto presuppongo una volontà compatta da parte, diciamo, di tutto l'organismo statuale fondamentalmente, ma prima ancora della popolazione voglia effettivamente cosa perché se non siamo convinti noi, prima di tutto, sarà ben difficile che lo possano essere i politici, poi potremo eventualmente sentire pressioni di qualche genere. Uno. Due, chiaramente, appena ci fossero avvisaglie di questo nostro desiderio così forte, chiaramente il nostro alleato principale, anche più scomodo in questo momento, sicuramente avrà qualcosa da ridire e mettere in campo tutte le pressioni diplomatiche più o meno lecce per, come dire, risuomerci dal voler fare una cosa del genere, inclusi motivi più o meno economici, fino anche a minare la nostra sicurezza perché io sono sicuro che se è vero, come pare, che le teorie complottive di ragione quando si dice che il 9-11, pardon, 9-11 o 11 settembre sia stato in buona parte organizzato all'interno degli Stati Uniti da membri, come si direbbe oggi, deviati dall'organizzazione statuale, io ritengo che ci metterebbero gran poco a procurarci qualche allarme per realizzare che noi facciamo una cosa del genere, perché come abbiamo detto la settimana scorsa, in tutti i paesi della Nato l'Italia è quello che ha una posizione strategica più vantaggiosa come poggio, come trampolino di lancio verso tutta l'Europa dell'est, il Medio Oriente e il Nord Africa, fino anche al Centrafica, quindi non parliamo poi della nostra ricchezza anche in termini di per loro importantissima, quindi non credo che sia così semplice, però di fronte alla nostra risolutezza e risoluzione in questo senso, io penso che dovrebbero rischiare di accollarsi all'inizio di una guerra mondiale a questo punto, perché non credo che starebbero a guardare la rovina dell'Italia, di questo punto 2. 3. Comunque che riusciamo a scampare questo genere di pericoli e siamo disposti a rafforzare qualche sacrificio di dispercussione internazionale e sono convinto che noi abbiamo tutte le armi per poterci difendere al di fuori della sfera della Nato, che se ci riesce la Svizzera, che è una situazione storicamente tale per definizione, non credo perché non dobbiamo riuscirci noi, a maggior ragione riescissimo ad essere così interessanti come comunque ci sia, dal punto di vista anche economico, come la Svizzera è uno dei motivi per i quali la sua neutralizzazione deve banco, non pensiamo che ci sia per rispettare la sua volontà di essere tale, perché la parte delle banche fondamentale è lo Stato, dove al di fatto che i stati sicuramente hanno interesse economico all'interno del territorio Svizzera e come vale la Svizzera a buon gioco a mantenersi fuori dei cittadini, va in punto la Svizzera Svizzera a mantenersi fuori dei cittadini, va in punto la Svizzera a mantenersi fuori dei cittadini. Rosario, siamo noi o non sentiamo granché? No, sta arrivando male, sta arrivando. Ah, ecco, pensavo fosse un nostro problema, ok. Scusa Marco, vai pure avanti, magari, ecco, se ti potessi fermare in un'istanza se hai convicciato di capo, di modo che il segnale è proprio, guarda, io non sento nulla, quindi immagino che anche gli ascoltatori ti facciano fatica a seguirti. Marco, prova a riparlare. Ecco, io spero che sia arrivato quello che ho detto fino adesso. No, niente, Rosario, magari vogliamo... Marco, prova a richiamarti, aspetta un attimo. Sì, è un attimo Marte che è rinocca davvero a... Io sono a disposizione della... sono vostra disposizione, perché sono meglio perdere. Un attimo, un attimo soltanto, chiedo scusa, provo a riprendere Marco la telefonata, perché è una telefonata su cellulare, quindi è in movimento, c'è la pioggia, la macchina, se ti possiamo immaginare. Non è il massimo. Non è il massimo. Adesso sto richiamandolo. Volevo ricordare ai nostri ascoltatori che, oltre a, naturalmente, poter aderire ai vari comitati no guerra non nato che sono presenti... Antonella, arrivi male anche tu, Antonella? Sì. Marco, ci sei? Io sono con voi, sento a tratti Antonella... Ci esista... Perfettamente... Va bene, scusami un attimo Marco, Antonella... Marco, un attimo soltanto, un attimo... Prego, prego... Antonella si è arrivata a tratti, quindi prova a riparlare... Antonella? Vai Antonella, prova... Dicevo, ricordavo i nostri ascoltatori, ecco, ricordavo i nostri ascoltatori che è possibile aderire ai vari comitati no guerra non nato sparsi sul territorio nazionale e che in più è possibile firmare la petizione che gli stessi comitati portano avanti, cioè per ascoltarne perché ci sia la fuoriuscita dell'Italia dalla Natto. Questa era un'informazione che volevo dare perché, purtroppo, come sempre, gli organi di informazione istituzionale non collaborano in questo senso. Quindi, Marco, cerchiamo di riprendere le fila del discorso. Stavi dicendo il terzo punto... Anzi, il quarto, scusa. Sì, il terzo punto è... Il quarto punto dovevo ancora iniziarlo, il terzo punto era terminato, spero che sia arrivato bene o male. È chiaro che, appunto, incontreremo della resistenza e quindi dobbiamo essere disposti a sopportare dei sacrifici. non ultimo al fatto che se la Nato e comunque gli Stati Uniti decidessero di girare i propri contingenti a livello del territorio italiano, naturalmente noi perderemo milioni e milioni di euro, per non dire centinaia di milioni di euro di affitti dei nostri siti militari, perché molti siti militari sono in affitto alla Nato piuttosto che gli Stati Uniti. E' caduta proprio la linea con Marco, eh? E' proprio il segnale, Antonella, che non va con il cellulare. Spero che sarà anche abbastanza complicato prenderla. Adesso sto provando a riprenderla. Non so se riusciremo a riprenderla. Nel suo tempo chiedo a Massimo se è pronto per le news di fine trasmissione, considerato che sono le 19.25. Sì, abbiamo comunque un aggiornamento. Ne fotevo, spero che la mia voce vi giunga bene qui da Venezia. A posto, Massimo, vai. Benissimo. Ottimo. Allora, ci parte? Sì, a posto. No, se abbiamo recuperato Marco nel frattempo. Sì, sì. Allora, fermi un attimo. Marco è recuperato e è lì. Non ho sempre risposto da Marco, quindi non... No, no, Marco ha risposto. Va bene, mi sto ascoltando. Sto ascoltando, faccio come il santo del 25 di aprile. Per altro risponde anche sulla festa della liberazione. Io sono sempre presente. Non mi perderete mai. Perfetto. Bene, Antonella, vai. E allora, Marco, concludi il tuo pensiero, Marco, così poi passiamo la linea a Massimo per gli ultimi aggiornamenti. non sarà facile, ma dobbiamo farlo perché siamo in fortissimo pericolo di guerra. Siamo in mezzo, dal punto di vista logistico, torno a ripeterlo, siamo in mezzo ai contendenti e siamo al centro del territorio conteso alla fine. siamo in un certo senso l'ombelico del mondo da questo punto di vista in questo momento. Oltretutto possiamo essere tirati in ballo pretestuosamente da qualsiasi altro aderente alla Nato per il principio che ci vede coinvolti grazie all'articolo 5 del Trattato Atlantico. e con buffi riferimenti, come abbiamo visto la settimana scorsa, all'articolo del 51 della carta ONU. Ci sono un po' di conflitti tra le altre cose concettuali, tra le due formulazioni. Bisognerebbe tornare a parlare anche di questo aspetto. Ma noi possiamo farcela, dobbiamo però essere fermamente convinti di volerlo fare. Ottimo il discorso della petizione online su change.org, è solo uno dei modi. Ottimi i comitati non autosparsi. Credo ne nascerà un altro non più tardi di sabato questo prossimo venturo, quindi dove ci sarà un importante convegno a Prato dalle 10 del mattino in poi, con l'intervento di Giulietto Chiesa, Amalio Di Nucci e altri, patrocinato sostanzialmente da Pax Cristi Italia, Comitato Non Guerra Non Nato, Pandora come tv partecipante e altre entità che sono assolutamente trasversali anche come orientamento politico, che ne avvalora anche la bontà di intenti. Quindi signori, qua si tratta di essere fermi su questo punto. Poi questo non vuol dire voler male a qualcuno, ma semplicemente riprenderci la nostra sovranità e imparare a difenderci e a tirarci su con le nostre gambine. Perfetto, grazie Marco. Ti diamo appuntamento a mercoledì prossimo naturalmente e come sempre ti aspettiamo se vuoi anche per la diretta delle 22 e preannuncio agli ascoltatori che l'ospite di Osservatorio Antimafia questa sera sarà Salvatore Borsellino. Quindi se tu sarai in una condizione di maggiore agio e soprattutto sveglio, qualora volessi collegarti con noi ci farà piacere come sempre. Per intanto ti ringraziamo. Grazie a voi, sempre volentieri partecipo. Grazie Marco. A voi, grazie. E passiamo adesso la linea a Massimo Bonella per gli ultimi aggiornamenti. Prego Massimo. Sì, grazie Antonella. Prendiamo la linea qui da Venezia. Saluto Marco Grilli che più volte l'ho avuto ospite nel mio settimanale Pianeta Oggi Rapport. Tra l'altra cosa abbiamo ancora un'intervista in cantiere che prossimamente deve essere montata per poi trasmetterla anche qui su Science TV. Dunque, 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 dunque. Andiamo a Spilimbergo. Siamo in provincia di Pordenone. Gli investigatori hanno pochi dubbi. Un uomo ha ucciso la ex compagna a Spilimbergo nell'appartamento in cui la coppia conviveva fino a pochi giorni fa. Lui aveva ancora le chiavi di casa ed è tornato a casa aspettandola a rientro dal lavoro. Le ha sparato quattro volte e poi si è ucciso con la pistola che aveva avuto in dotazione quando era guardia giurata. I genitori della giovane hanno chiamato i carabinieri allarmati dal silenzio di lei nell'appartamento chiuso a chiave. Dunque, sono stati trovati i corpi. La ragazza uccisa aveva solamente 30 anni, lui ha 30. Questo è dunque l'aggiornamento alle 19.30 spaccati. Vediamo se c'è qualcosa in arrivo. Dunque, sì, ve la leggo per la prima volta, la trago dal televideo. Migranti chiederò un incontro ad Alfano per quanto la nostra sia una comunità abituata e solidale anche in una condizione di forte crisi dell'agricoltura. Non siamo in grado di garantire un lavoro e una accoglienza dignitosa a una mole così grande di persone. Così il neosindaco di Rosarno, Ida, dopo quanto è accaduto nella tendopoli di San Ferdinando. Chiederò di spantellare questa tendopoli continua. Aveva una funzione temporanea ed è diventata un ghetto. Non è possibile che queste... Dunque, non è possibile che questa situazione di questo tipo. Questo dunque alle 19.31. Non ho altre notizie, altri aggiornamenti, se non che da parte mia la massima solidarietà assolutamente a Salvatore Borsellino. Lo sentivo proprio oggi al GR1 in varie edizioni che lui praticamente vorrà fare in modo, giustamente, e sottolineo, fermare la presentazione del libro del figlio di Totò Rina a Palermo. Questa è un'offesa a Paolo Borsellino, a tutti i magistrati morti in prima linea e a tutti quanti coloro che sono morti per questa causa giusta, cioè la lotta contro questo cancro mafia. Alle 19.32 a voi la linea per la conclusione. Tutto da Venezia. Grazie a Massimo Bonella. Naturalmente diamo appuntamento ai nostri ascoltatori alle 22 per l'Osservatorio Antimafia con Salvatore Borsellino. Vi ringraziamo per averci seguiti fino a questo punto, nonostante le tante difficoltà tecniche. Ringraziamo Rosario Moreno e Ugo per la regia da Treviso. Ugo, non lo so, tu da dove ci segui? Da Modena. Da Modena. Quindi ringraziamo Rosario da Treviso, Ugo da Modena. Salutiamo ancora Marco che vediamo essere in collegamento anche se è appena chiuso. Salutiamo Massimo Bonella, responsabile di pianetaoggtv.net da Venezia. E vi diamo appuntamento alle 22 se volete, o mercoledì prossimo alle 18.30 sempre su Radio Science. Grazie e buonasera. Arrivederci. Bene, buonasera a tutti e andiamo con la sigla. Grazie a tutti. Grazie per la visione!